io ero 92 la madonna quando faccio vedere la fotografia sulla carta d'identità come seri ma quanti anni fa? 18 e 19 anni e vabbè figa io l'ho vista di naio 63 kg 80 adesso è solo lui che è dimagrito così tanto no Enzo vabbè a parte Marco si parte Marco ma adesso mi fanno lavorare seduto figa ma cazzo devo fare seduto? si sono seduto a lavorare mi alzo tanto quando dovevo smerigliarmi adesso ho imparato a usare la macchinetta come ti fa io?